Il covid avanza a grandi falcate anche in provincia di Salerno dove cresce sempre più il numero dei contagiati. Proprio la preoccupante situazione ha fatto scattare controlli a tappeto. A Salerno la scorsa notte è stato direttamente il sindaco Enzo Napoli ad accompagnare gli agenti della polizia locale nei principali luoghi della Movida. Il primo cittadino si è recato nelle zone frequentate dai più giovani invitando tutti ad indossare la mascherina e a rispettare le norme. Sopralluoghi sono stati effettuati anche in numerosi ristoranti e locali della Movida cittadina ma la task force ha riguardato tutta la provincia. Carabinieri, polizie e guardia di finanza con il supporto dei militari dell'esercito hanno controllato 2.078 persone multandone 50 per il mancato uso della mascherina e 2 per il mancato rispetto della quarantena domiciliare. Sono stati inoltre controllati 408 esercizi pubblici 12 dei quali sono stati sanzionati. Numeri che testimoniano come l'emergenza covid abbia raggiunto nuovamente picchi elevati. L'ultimo bollettino parziale diramato dall'asla di Salerno parla di 15 nuovi contagi ma il dato non comprende i tamponi analizzati al laboratorio di Eboli. Per provare a contrastare il contagio ad Angri il sindaco Cosimo Ferraioli ha chiesto all'asla la possibilità di effettuare i tamponi in modalità drive-in contro misure adottate anche a Battipaglia dove nelle ultime ore si è registrato un nuovo caso. Non bisogna abbassare la guardia perché il virus sta girando, sta girando velocemente, stiamo entrando in emergenza, i posti letto in terapia intensiva incominciano a scarseggiare, quindi mi raccomando l'unica precauzione, l'unica cosa che noi possiamo fare per salvaguardare noi e chi ci sta vicino è appunto munissiti, mascherine, lavare le mani, rispettare le distanze.